salve cari amici e colleghi vi saluto ancora da napoli c'è qualcuno che deve entrare ancora posso aspettare e anche posso cominciare e allora cerchiamo materiali allora ancora presentiamo la skyway community con le sue offerte e opportunità allora personalmente io sostengo la tecnologia skyway sperando in un futuro migliore che prospetta vita lunga e salute allora sono accato una tattosciuli con le qualifiche e questore della società skyward community sono mamma di tre bambini e di qui dove sono studenti e abbastanza affermati che è una grande gioia per una mamma immigrata e sono emigrata da tre anni e svolgo tutte le attività a distanza dal mio posto di lavoro allora ho esperienza di lavoro in strutture statali 15 anni di esperienza nella comunicazione e delle relazioni in ambito medico o anche di sott'anni di gestione di imprese private ed esperienza in territoriale nel settore settore delle vendite e dei servizi sono uno specialista certificato di lingua italiana a livello a2 e avendo esperienza di comunicazione mi ha aiutato a creare un gruppo dirigente della community skyward che si è sviluppato in francia giorgia bologna spagna italia germania e israele e allo stesso tempo in questa fase del suo sviluppo l'azienda ha offerto programmi di formazione e attualmente le speciali da più richieste e altamente allora pagate il qui il mio team attivamente coinvolto allora puoi immaginare che prima del 2014 le persone non stavano investendo letteralmente in nulla c'era solo un'idea e il grande desinteressato del creatore di questo progetto e ora ripresentiamo kai word correnti con le sue offerte commerciali il progetto di qui parleremo oggi e di proprietà del signor anatoly junezky con una storia di 40 anni la proprietà intellettuale del suo progetto è stimato in 400 miliardi di dollari ed è dopo 40 anni di suo sviluppo si allora che dal 2014 è diventato è diventata una grande azienda un progetto che oggi ha le migliori offerte al mercato lo stesso anatoly junezky ha già 73 anni ed è sicuro che al 1000 per cento che tutto questo era nel corso della sua vita lui non ha rifiutato di realizzare questo progetto anche quando la sua vita era in pericolo e allora persone che stanno guardando adesso prima volta hanno uno stacco delle montomate del skyway allora skyway è un trasporto che si muove su rotaie ad alta resistenza e anche il progetto ha una serie di vantaggi e distinguono sky da altri modi di tipi di trasporto la struttura della linea skyway si trova su sopporti che occupano poco spazio sulla terra e non influenzano l'ecosistema i bacini idrici e foreste rimangono in una cosa che che è visibile dappertutto dove è realizzato già questo progetto skyway il trasporto skyway è controllato da un'autopilota ciò riduce il numero di potenziali incidenti e l'aerodinamica del trasporto sky consente di raggiungere velocità a 500 chilometri e anche la costruzione della struttura skyway linea a stringa si richiede meno denaro rispetto alla costruzione di alcuni altri e ci sono già molti tipi di trasporto di mia stringa che vi posso trovare con una grande gioia allora è venuto un pensiero che tu mi potresti chiedermi ma perché skyway perché non siamo un'auto ibrida no ma io ti dico che quando carichi l'auto ibrida in pratica devi collegarla a una centrale elettrica che funziona di nuovo a carbone o in un'altra materia e quindi crea danni alla natura noi stiamo partecipando a questo progetto perché salvia vogliamo salvaguardare il nostro pianeta il destino del nostro pianeta allora i costi operativi allora sono 20 25 molte inferiori rispetto al porto su strada già esistente e la produzione dell'energia si è al minimo perché genera energia più che sufficiente e non dipende alla centrale c'è un stabilimento anche cosa avete visto che c'è uno stabilimento di produzione un centro di animazione in sarcia e minsk dove lavorano 3000 ingegneri istruttori esperti che gestiscono ogni dettaglio del futuro trasporto con la massima precisione e qui voglio dirvi che ogni dettagli hanno 100 anni di garanzia che non hanno avuto aziende trasporto precedenti e allora quindi quando costruisci per costruzione consumi 20 25 meno funive perché non abbiamo bisogno di attrezzare il paesaggio versare acqua e rompere le rocce per costruire tratta sono necessari solo soli di supporti con un binario di fune per viaggiare su sky transport e fornire servizi di consegna con il trasporto più veloce penso è una grande comodità per una vita allora così accelerata come abbiamo adesso per oggi allora esistono tre tipi tipi di pasta corte ridici semi rigidi scusate semi rigidi e elastici ognuno dei quali ha il proprio tipi di binario quanto allora sappiamo che quando un'auto accelera accelera ad alta velocità deve fare i conchi con il fulso d'aria in arrivo si chiama resistenza il nostro sky transport e mila volte più facile da gestire e grazie allo scappo affilato in grado di raggiungere velocità a 500 chilometri in qualsiasi condizioni della natura era attestato nostro sky linea stringa e tutto è realizzato perfettamente e per oggi abbiamo il trasporto e possiamo utilizzarla per i nostri interessi allora quel transport unibus che può raggiungere velocità 500 chilometri è capace spostare insieme o 4 da 4 fine 24 persone e ha la sua produttività fino a 5 mila passeggeri al giorno allora unibus urbano il trasporto urbano che può raggiungere 150 chilometri allora con la sua capacità può spostare può mantenere 28 persone fino a 168 persone e con la sua produttività al giorno può spostare 50 mila passeggeri è una bella cifra sempre unicard pure raggiunge 50 chilometri velocità capace spostare insieme 6-8 persone e la produttività sua è 50 mila passeggeri al giorno unicard questi sono i merci per gli altri servizi che possono togliere le strade traffico e macchine semplici possono camminare sulle strade così comodamente e praticamente senza sosta ogni transport può possono essere più utile per l'umanità per tutta l'umanità allora lo sviluppo tecnologico già è disponibile per tutta l'umanità appena sarà costruito dappertutto linea di strinca la nostra vita migliorerà più pochi tempi e avremmo un'altra vita più sistemata dato per raggiungere che corriamo tutti noi allora allora in pratica se pensare bene si utilizzando questo trasporto possiamo portare le persone alle cure di emergenza più rapidamente e ottenere interventi chirurgici in tempo con un rapido trasferimento alla critica necessaria no possiamo usare in questa possibilità essere più utili per tutti e migliorare veramente il nostro futuro per i figli allora futuro per i nostri creativi crea creiamo oggi tutti che siamo collegati in questa azienda quindi è un progetto ecologico globale economico e ha offerte migliore per oggi mercato e personalmente io dopo che mi sono entrata in questa azienda che capivo informazioni stavo accumulando tanti 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 informazioni io pensavo sempre un pensiero veniva sempre con me che come mi sono fortunata grazie dio per questa possibilità se mi dicevo questo allora possiamo sappiamo che le strade sono congestionate da auto che con la loro missione possono causare inquinamento e dati purtroppo ci sono anche paesi che dovranno mettere in alto leggi sulla sicurezza perché la mancanza di sicurezza a causa che la che la causa di molti incidenti negli anni 70 esistevano questi problemi di inquinamento e sì e nel 1078 il signor nato iwnetzky scienziato inventore proteggista in navi volanti presento il suo primo articolo scientifico e dopo cinque anni di ricerca sull'atmosfera e che in cinque anni l'atmosfera è stata molto inquinata e continuare così per decenni avrebbe esposto la popolazione a sconosciute malattie e purtroppo adesso questa situazione esiste e visibile che è venuto questa situazione sì la circolazione ha fatto da decenni problemi strada sopravolata mancanza di sicurezza e dispendio di energia colosale per i propri interessi i propri obiettivi l'unità ha tanneggiato la natura e i paesaggi e per questo è così è successo nei paesaggi stiamo abbattendo foreste prosciugando fiumi e i bacini idrici distruggendo montagne e sciogliere e quindi la natura risponde con dei disastri naturali così a noi risponde allora anche due anni fa questi trasporti già erano testati e certificati al centro innovazione in della russia vicino città marina corte dove è possibile visitarli per cui ci siamo qui collegati per cui ci siamo qui collegati vi devo dire che ogni partner della società skyworld community allora siamo in una posizione predichizia quindi qui è possibile firmare un successore e anche tra le aggiuntive dal programma di partner di qui parleremo un incontro specializzato per gli interessati allora il vantaggio e il fascino della nostra azienda allora stare il fatto che è una forte riunione di persone con obiettivi valori comuni e di qui quando abbiamo i collegamenti parleremo in un incontro specializzato per gli interessati potete preparare le domande e dopo avrete le risposte per tutte allora rappresentati di oltre 200 paesi sono attivamente coinvolti in questo progetto per ottenere un reale benessere finanziario che è già diventato un processo irreversibile e di qui parlano i progetti già realizzati pianificati e firmati il nostro profitto quindi siamo entrati nella nostra azienda e che allora vi dico adesso ora tirate i dividenti guadagni dal programma di partner l'eredietà a disposizione sulla restituzione del denaro viventi con proprietario di tecnologie partecipa a un progetto affinità e ampio è globale per salvare il nostro pianeta blu passi alla storia come finaltro poi crei capitali per una vita spensierata la possibilità di viaggiare per raggiungere dubai e non solo dubai ad stato di formazione di specialità impegnative e altamente e anche che è molto molto importante il valore nominale del tuo acquisto è direttamente proporzionale al numero delle tue azioni e allora questo è il motivo per cui Bright Sky Transport il trasporto necessario è più richiesto nella storia dell'esistenza umana quindi è un progetto ecologico che migliora la nostra vita e il nostro situazione finanziario ok? e allora adesso vediamo i progetti già realizzati anche abbiamo c'è anche un sito uneschi.engineer dove puoi vedere un elenco completo di una serie di permessi e certificati che riflette 40 anni di duro lavoro del signor Anatoio Uneschi al quale ha dedicato la maggior parte della sua vita e del suo lavoro e sempre essere allora avere le informazioni esatto che sono molto importanti per capire giusto cosa ci prospetta questa azienda allora vi dico che personalmente per me è stata una grande gioia che avrò comprato 120.000 dollari e da soli 1.000 dollari cosa non avrei potuto fare nella vita reale questo è vero cosa dovrei fare per guadagnare questa cifra o in quanti anni potrei risparmiare così tanto è per me che l'azienda skyworld community è diventata il senso e il supporto della mia vita quindi dal programma di partner durante due anni io stavo guadagnando mensile e lo stipendio diciamo il bonus che che anche non capivo perché mi dava questa possibilità quindi la mia attività io credevo abbastanza però quello che facevo rispetto rispetto a questa azienda e ogni parte partner viene rispetto dal creatore di questo progetto e oggi mi sono orgogliosa che esiste questo questa azienda e con i miei colleghi amici sto facendo un bel lavoro per aiutare altre persone a vivere in un futuro sicuro migliore allora allora senza emozioni voglio continuare scusate allora allora la cosa più importante l'importante per te che ci sia un prodotto che tocare e sentire la tua velocità e comodità per te stesso e non ha bisogno di essere paragonato a nessun'altra azienda questo unico progetto ecologico globale che ci offre molte opportunità interessanti e anche l'ecotecnopark era realizzato ed è operativo in Pellarussia nella città di Marina Gorka e negli via di Arabi Uniti in particolare nella città di Sharjah nel centro di innovazione attorno all'università americana dove è già possibile visitare e allora all'università americana allora degli Emirati Arabi c'è una linea di prova del nostro trasporto che opera per 15 km intorno all'università questa distanza comprende 21 stazioni ogni persona può sperimentare il conforto di questo trasporto e viaggiare con auto in linea di strinca e il futuro allora personalmente per me e per i molti partner si è diventato più credibile tutto questo che l'Italia ha tra i duecenti duecento paesi partner e come non ha avuto informazioni maggiori però come hanno detto sulla Monte Bianco era cominciato questo progetto però il futuro e allora vi spiego e ora ti dico da dove prendiamo esattamente i nostri benefici il 32% della quota del valore delle tecnologie viene messo in vendita sotto forma di azioni e con gli investimenti pubblici si effettua una funzione di azione e diventare proprietari di tecnologie innovative e dopo dopo che funzionano questi progetti realmente sono realizzati e pianificati effettuati quindi facendo il suo lavoro perfettamente per cui sono dedicati e creatici è sicuro che abbiamo tanti certificazioni e i progetti per oggi ancora stanno continuando un progetto due mesi fa era firmato anche nella Turchia e speriamo che costruiscono linea di stringa presto e vedremo insieme insieme come sarà il trasporto pubblico quando possono utilizzare gente ok allora la società skyworld community è stata registrata in inghilterra in isole vergine come società europea nel 2014 pertanto i diritti del single co-partner sono scritti e tutelati dalla normativa europea inoltre l'ordine di partecipazione è inviato dal registro pubblico inglese all'indirizzo indicato dopo la registrazione della società le sue fasi di sviluppo sono state suddivise in 15 fasi ad oggi abbiamo già completato quattordicesima fase del suo sviluppo e siamo prossimi alla quindicesima fase già quest'anno la società skyworld community è stata introdotta con il nome cambiato a tecnologie delle stringhe di uneschi allora si dice così uneschi street technology e allora i pacchetti azionari parleremo sui pacchetti azionari allora loro partono da 250 dollari e arrivano fino a 150.000 dollari a seconda dell'interesse degli azionisti un rappresentante in qualsiasi classe sociale puoi investire è possibile usufruire di date interne a tasto zero sul pacchetto azionario c'è la possibilità e anche abbiamo i pacchetti quindi allora offerte specializzate che puoi scegliere scegliere il bambino tuo anche per un studente eccetera eccetera e non perdere le tue possibilità la tua possibilità a fare allora utilizzare una della offerta diciamo è possibile usufruire di rate a tasto zero sul pacchetto azionario non perdere il tempo per ottenere maggiori informazioni e fornisci subito al tuo invitato il link di registrazione penso già ce l'hai o fissa un incontro per darti risposte più specifiche della direzione che ti interessa quindi sempre ci siamo qui e possiamo essere utili per i nostri amici colleghi gli darà una mano migliorare e salvaguardare il nostro pianeta blu ed è dopo il completamento della quindicesima offerta come abbiamo già detto si sta già spostando sul mercato mondiale e ci stiamo avvicinando alla maturazione dei dividenti e anche in realtà se parleremo sinceramente sì il trasporto esiste davvero e si adatta alle condizioni climatiche il suo corpo è resistente alle radiazioni converte l'energia solare e luce del giorno in elettricità e può letteralmente servirci senza sosta e muoversi ad alta velocità e ciò che è importante per te alla fine c'è ancora la possibilità di unirti in questo progetto ambientale più globale l'unico unico essenza precedenti e cambiare la tua vita in medio il fai bay è un trasporto unico che salverà la vita a milioni di persone centinaia di migliaia di ettari di paesaggi si miliardi o di più animali e uccelli e per me da loro a ciascuno e no e per me veramente è molto anche necessario avere questo tipo di trasporto l'agenda tiene anche conto dei nostri diritti secondo la legislazione europea e godiamo di tutti i diritti del proprietario ascoltate bene questo è il grande conforto per noi per il produttore eh è il signor Natale Uneschi che presenta una relazione annuale quel lavoro svolto è sempre così e ringrazio anche personalmente io e abbiamo questa gioia sicuro tutti la nostra azienda ha una disposizione del denaro anche se decidi improvvisamente eh di lasciare azienda allora ti offre di aggiungere più 4% eh determinate condizioni eh restituire i tuoi soldi come eh mutuatario questo cosa significa? allora eh tuttavia se qualcuno dovesse lasciare l'azienda con questa richiesta no? però ancora questo precedente non è stato finora rilevato quindi nessuno mai non ha lasciato la nostra azienda ancora allora eh questa è è la nostra eh per la nostra eh per il nostro salute eh e sopravvivenza come un maggiore eh come come l'immagine mostra chiaramente dove è stato questo progetto pilota quando è pulita l'atmosfera eh potete potete visitarli trovare da vicino eh avere una grande felicità essere con noi in questo progetto eh ogni uno eh possiamo essere utili per i nostri figli certo quindi trasporto skyway funziona tramite pannelli solari e anche il corpo eh può convertire l'energia solare in elettricità lavorando praticamente senza sosta i termini di trasporto passeggeri può trasportare un numero molto maggiore in eh 24 ore rispetto ad altri trasporti esistenti i termini di inquinamento siamo a zero e sostante nocive eh quindi danno per la natura non esistono eh i termini di incidenti eh il più sicuro perché evita fisicamente tutti i veicoli eh veicoli esistenti eh ricordiamo che oggi abbiamo tre tipi di veicoli che necessitano di consumo eh trasporto marittimo terrestre aereo però eh eh il sky transport può eh essere insieme con tutti i tre e non consumare il loro spazio e e di più vi dico che può sistemare i movimenti sulle strade eh 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 questo progetto ha soddisfatto delle aspettative del signore Antonio Uneschi che ha avuto l'idea di costruire città lineali dove serviva il trasporto sky a linea stringa e i nostri bisogni quotidiani e la natura saranno preservati ah e e con questo progetto noi stiamo partecipando eh perché è innovativo è alto ed alta velocità è sicuro è facilmente integrabile e soprattutto ecologico e soprattutto è che ci interessa sì eh eh perché siamo collegati il nostro profitto che cos'è? eh il nostro profitto è i dati e i dividenti quadrati dal programma di partner l'ereditarietà disposizione sulla registrazione nella restituzione scusate del denaro diventi comproprietario di tecnologie eh partecipate eh progetto ambientale ampio globale per salvare il nostro pianeta blu passi alla storia come fin altro poi crei capitali per una vita spensierata hai la possibilità eh di viaggiare dappertutto eh attestato di formazione in specialità impegnative altamente retribuite eh c'è il valore nominale del tuo acquisto eh che è direttamente proporzionale al numero delle tue azioni eh tutto è eh perfetta per te è una grande gioia e allora questo era società Skyward Community Uneschi con le sue offerte e opportunità e io sono stato attratto dalla qualifica di investore e leader di questa società grazie per l'attenzione e vi auguro tutto quello che è buono per il vostro salute e per la vostra vita saluti a tutti saluti a tutti